Prendete la penne! Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te E sì cari miei, prendete le penne perché oggi faremo una composizione con la tecnica della Zentangle Cioè non faremo solamente astratti ma daremo delle forme precise ad un qualcosa di figurativo Attraverso la tecnica dello Zentangle Quindi prendete le penne e spostiamoci subito sul piano da lavoro Ed eccoci pronti per disegnare la nostra composizione Zentangle con farfalla Credo che userò le penne colorate per svilupparla ma non lo so perché in pre dall'ispirazione mi farò guidare Ho anche qui le mie penne nere quindi penne in gel colorate non lo so o penne nere Poi sicuramente sicuramente il compasso eccolo qui Una matita come carta un foglio liscio uso la Fabriano Bristol che è una delle mie carte preferite Allora innanzitutto centro la composizione e lo faccio con voi Prendo il compasso e creo dei cerchi partendo dagli angoli Uno E due Che siano di rimpettai uno rispetto all'altro Poi posso anche creare delle micro composizioni creando altri Zentangle Voilà e farò in modo che gli uni si incastonino negli altri In tutto questo voglio anche inserire ovviamente un volo di farfalla Sì sarà una farfalla un po' più particolare Io ne ho vista una molto bella su Instagram e voglio un pochettino riprenderla Iniziamo a definire meglio questa farfalla E libero gli spazi interni in modo che poi possa sviluppare il mio disegno come meglio credo Adesso Rimpicciolisco Gli spazi Entro cui sviluppare il mio Zentangle Da una parte E dall'altra Riprendo i centri Di prima E faccio la stessa cosa Anche qui E fino a qui ci siamo Tutto il resto Questa parte e questa parte Invece la riempirò con dei ramage Quindi con dei fiori liberi Come procedere? Allora potrei fare la farfalla nera O di un solo colore E tutto il resto molto colorato Vediamo vediamo un po' Intanto comincio a definire il corpo della farfalla A curvette Lineette curve che seguono Le palline che lo compongono Mentre la testolina la faccio tutta a micropuntini Anche le ombreggiature poi le farò tutte a micropuntini Però la testolina la farò solo a micropuntini Io non seguo mai la traccia della matita Per me la matita è soltanto un momento di raccordo delle idee Poi vedrete che nel corso dello sviluppo della farfalla Io varierò moltissimo Perdonatemi ma è più forte di me Non riesco a stare legata a un particolare disegnato Per me il passaggio della penna è anche un momento di aggiustamento delle forme Una volta che le ho individuate a matita Le sistemo poi a penna Ora sulla parte laterale del corpo Farò le ombre tutte a micropuntini E adesso cancellerò tutta la matita che c'è dentro alla farfalla Creo delle divisioni a spicchi più o meno uguali Prendo una penna colorata E inizio a circondare I decori Ora scalo il colore E prendo un viola Queste penne Io le ho prese su Amazon Costano pochissimo E si stanno comportando bene Sino adesso Qui ovviamente non posso dirvi passo per passo Come compilo Il mio Zentangle Perché è un qualcosa di assolutamente improvvisato L'unica cosa che vi posso dire Divertitevi a degradare i colori mentre lo fate Música Grazie a tutti. Per fare questo cerchio qua prendo questo rosso borgogna, vedete qui ho una gradazione di rossi bellissima, che farà proprio al caso mio, qua giù e poi chiudo, lascio i cerchi bianchi in mezzo al bordeaux. Inserisco un nuovo motivo e lo faccio appoggiandomi ai raggi che ho creato. Perché qua mi serve un po' più d'ordine nel procedere e ripasso le forme esterne con il bordeaux. Da qui procedo ad inserire le decorazioni in maniera ritmica, sfruttando le varie righe per determinare le altezze dei vari decori. E qui proseguo inserendo colori via via che definisco gli spazi dei moduli. Ho inserito gli arancioni, quindi proseguirò tra un po' col giallo perché sto andando in una sorta di degradè in cui sto evitando i blu e i verdi. Aggiungo altri particolari con i toni dell'arancio, tenendo sempre il punto di riferimento uguale per tutti gli elementi. Perché anche se gli elementi si discostano leggermente come forma perché vengono fatti a mano liberi, facendoli attaccare tutti dallo stesso punto, facendoli iniziare tutti dallo stesso punto, si dà un ordine che l'occhio compone come armonico. Come a vedere, come vedete io sto cambiando spesso penne, a seconda del colore che mi serve, tutti i link delle penne che sto usando ve li lascio nell'info box. Nel frattempo vi dico anche cosa ne penso. Queste molto carine per la varietà dei colori e per la varietà di texture, infatti ci sono i glitterati, i perlati, gli opachi e quindi mi sto trovando molto bene e costano molto poco. Le stabilo sono quelle che mi riportano su il disegno, quelle che danno un tratto più certo, più pulito e quindi ovviamente necessarie affinché venga bene proprio il disegno. Adesso sto provando anche le micro line che queste comunque sono un'imitazione penso dell'originale. Le superior... Io le ho prese su un sito. Se trovo quelle originali ve le metto qui giù nell'info box perché ne parlano tutti benissimo. Io quando le presi, le presi per originali e in realtà non sono. Ma però alcune scrivono bene, altre sono una vera ciofeca, quelle che ho io. Di quelle originali ho letto recensioni fantastiche. Se ve le trovo ve le metto in info box perché quelle, se vi piace disegnare a penna, sono proprio belle da avere. Grazie a tutti. Adesso avendo scelto questo rosso come colore preponderante della composizione perché mi piace, la drammatizza notevolmente, la fa sembrare meno ingenua, proprio una tonalità di colore molto bella. Vado a metterlo anche a mo' di contorno sulla parte che avevo fatto prima quando ancora non avevo scoperto questa meraviglia. e quindi semplicemente ne contorno l'andamento e quindi lo richiamo come tono. e poi aggiungo particolari su particolari che diano maggiore corpo al colore di preponderanza. A presto! A presto! A presto! A presto! dopo aver finito questo faccio quest'altro nella stessa identica maniera ovviamente con colori differenti cioè non nella stessa identica maniera procedo nello stesso modo però dall'altra parte voi questa parte la vedrete un pochino più velocizzata Ciao 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 A questo punto siamo qui adesso devo decidere di che colore fare i due tondi che ho messo a destra e a sinistra penso che questo lo farò con il blu e questo lo farò con i rossi e i fucsia dopodiché in questa parte che rimane metterò tutto quanto un ramage verde la farfalla la farò tutta in bianco e nero per farla venire fuori meglio a contrasto quindi adesso mi vedrete compilare i due piccoli mandala come avete visto fare fino a questo momento mentre poi quando attacco quando comincio a fare le foglie vi spiego come procederò a fare le foglie vi spiego a fare le foglie vi spiego a questo punto prima di procedere cancello tutte le tracce della matita presenti sui due mandala giusto per rendermi conto di cosa va bene e cosa no e cos'è da rivedere diversifico le foglie per andamento alcune le faccio con delle venature che si incastonano alla piega centrale della foglia altre invece le faccio così verticali cambiando anche il tono del verde a questo punto arricchisco il fogliame con qualche decoro tra le foglie non sarò ordinata andrò un po come capita a sensazioni proprio come giusto nei mandala quindi non farò in tutte le foglie i decori degli stessi colori ma farò in modo che le foglie vengano un pochettino omologate le une alle altre creando dei movimenti di colore verde su verde a questo punto mi fermo tolgo i colori prendo le penne nere e adesso ci concentriamo sulla farfalla allora ricomincio adesso con una zilinatura su col 0 1 su tutto il bordo esterno dell'ala niente adesso andrò a riempire gli spazi della farfalla in maniera più pulita possibile e in maniera più delicata anche possibile in modo da fungere da contrasto con la forza dello sfondo e cerco di alternare motivi tondeggianti a motivi lineari per far sì che gli uni e saltino gli altri quindi a righe faccio seguire pallini a e a a a a a qui ombreggio con un tratteggio incrociato quindi verticale obliquo a destra obliquo a sinistra e in più spessisco il chiaroscuro intensificandolo facendo del micro puntinato a poco a poco ripasso su tutte le parti che voglio spessire con punte differenti per esempio adesso sto usando una 05 mentre con le sottili faccio le linee di decoro io non so se continuerò a rimaneggiarlo un pochino sicuramente vi lascio qui anche perché direi che il grosso è fatto sapete cosa farò ispessirò ancora i margini per farla venir fuori ancora meglio e basta considerazioni sulle penne che ho utilizzato le stabilo sempre una certezza facili da trovare in tutti i supermercati non spandono e non vengono a essere tirate via dal passaggio le stedler per i neri secondo me le migliori le penne colorate che ho usato come veramente pochissimo costano anche queste qui cinesissime lo capisco però ragazzi hanno diverse diverse diversi finish in un'unica confezione e non so se voi riusciate a vederlo ma il perlato ci sta benissimo in alcuni punti quando uno vuole una differenziazione cromatica con poco quelle spendete poco diciamo che sul mio tavolo oggi l'una non esclude l'altra ma si compendiano tutte abbastanza bene io vi metto tutto qui giù nell'info box importantissima la carta che deve essere liscia ma deve tenere la penna non la deve far espandere e basta vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo ciao visto che bella la nostra composizione con farfalla quindi fantasia sfrenata e gesto guidato è uno zentangolo no a la tecnica dello zentangolo applicato a un qualcosa di figurativo trovo che sia una tecnica molto elegante molto moderna ma che si lega anche con il classico è una tecnica anche molto molto distensiva in questo periodo di grande stress una volta accarpite le forme si può comunque dare una figuratività al soggetto attraverso l'immissione dell'istintività grafica bene sperimentate le vostre composizioni e naturalmente fatemele vedere sulla mia pagina facebook di arte per te se vorrete potrete supportare il canale cliccando sul pulsante paypal che trovate sulla home page del canale grazie se lo farete non vi preoccupate se non lo potete non lo volete fare fa lo stesso grazie comunque e venitevi a trovare su tutti i miei altri social li trovate tutti qui giù elencati nel box informazioni sono ovunque facebook instagram pinterest chi più ne ha più ne metta ci sono ovunque venitevi a trovare anche sui miei altri due canali youtube ombretta e due corina k vi aspetto numerosi e su due corina k vi aspetto insieme a gabriele basta parlare se questo video vi è piaciuto condivisione pollice in su e noi ci rivediamo sempre qua per una nuova avventura creativa da ombretta ed arte per te è tutto alla prossima volta ciao ciao